Mi scusi signora se glielo dico, ma perché non si è fatta vedere prima? Erano tutte cose irrisolvibili in poco tempo. Come facevo a dirle che di visite ne stavo facendo da due anni? E che l'unica cosa che erano riusciti a dirmi i suoi esimi colleghi è che ero troppo tesa e stressata per poter restare incinta. Signori, purtroppo devo dirvi anche un'altra cosa. Ecco quel tono. Non voglio sentire quello che ha da dirmi. Mi terrorizza quel tono. E purtroppo in seguito alla situazione clinica della signora per quanto... Basta! 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 Non sento nemmeno la fine della frase. Le sue parole mi travolgono con la forza di uno tsunami che mi entra dentro attraverso la gola, mi strappa via l'anima. Amore, stai bene? No. Ho passato tutta la vita a desiderare un figlio. Ad aspettare l'uomo giusto, il momento giusto. E adesso che c'è tutto, stranamente, contemporaneamente, mi vengono a dire che non posso. No, non sto bene. Come potrei stare bene? Signori, scusate se vi interrompo, ma avete mai pensato di percorrere altre strade? Scusi, dottoressa, ma lei ci ha appena detto che noi non potremmo avere figli. No, io intendevo dire che sarà molto difficile che possiate averne naturalmente, a causa della situazione clinica della sua signora. Potreste però provare con altri metodi. Metodi? Che metodi? Stiamo parlando di bambini e lei mi viene a parlare di metodi. Mi si prospetta davanti allora un mondo a me prima sconosciuto. P, M, A, procreazione medicalmente assistita. Inizio a prendere confidenza con termini come FIV, TXI, PSI, AIUI, stimolazione ovarica, arginina per stimolare la motilità spermatica. Inizio a consultare tutti i siti e le riviste consultabili. E scopro anche un sacco di forum e di blog dove migliaia di donne sfogano virtualmente a degli sconosciuti, a volte molto sensati, a volte pericolosamente incompetenti. Le loro ansie, le loro paure, frustrazione, senso di fallimento e vergogna. Apro una pagina e leggo. Prendono il nome di fecondazione artificiale tutte quelle tecniche volte alla procreazione di un nuovo individuo senza passare per un rapporto sessuale. Esistono attualmente diverse tecniche di fecondazione assistita. Elenchiamo qui le principali. FIVET. La fecondazione avviene in una provetta nella quale gli spermatozoi vengono a contatto con l'ovocita, l'embrione così ottenuto viene trasferito nell'utero. GIFT. Questa tecnica consiste nel trasferimento intratubarico dei gameti. GIFT. Zico-tintrofallopian transfer. HIPS. Intraperitoneal fertilization. Questo sembra la marca di un fertilizzante. ICSI. Iniezione introcita, plasma, non importa. Congelamento di embrioni, congelamento di ovociti, trapianto di ovaie, concepimento guidato, inseminazione intrauterina, inseminazione intratubarica, inseminazione artificiale, mediante la quale con cannula viene introdotto nell'apparato genitale della donna il gamete maschile fresco o crioconservato. Come lo preferisse, signora? Fresco o crioconservato? È un po' di più. Lassio? A me la dottoressa consiglia la tecnica ICSI. E allora vediamo se ho capito bene.